E' tanta strada, poi fatta ogni giorno per dieci anni di fila, non è assolutamente facile. La strada per arrivare a Creazzo è stata lunga, l'abbiamo fatta per tantissimi anni consecutivamente. Tornare a casa nella piscina dove Thomas è stato costruito, è nato, si è allenato, è sempre un piacere, ci sentiamo in famiglia. La piscina comunale di Creazzo festeggia Thomas Ceccon, grande protagonista dei mondiali di nuoto di Budapest. Thomas Ceccon è il campione del mondo, 51 e 60. Tanti messaggi dopo lo strepitoso record del mondo con i 100 d'orso. Mi ha fatto più piacere in assoluto, quei messaggi dove ringraziavano per l'emozione, perché si sono divertiti. A 21 anni Thomas sa che la fatica e i sacrifici fatti erano indispensabili. Almeno una medaglia così importante con il record del mondo volevo dedicarla a me, poi senza togliere nulla a tutti quelli che mi hanno seguito e mi hanno supportato, da famiglia, fisioterapista, allenatori eccetera eccetera. Dopo Creazzo il trasferimento al centro federale di Verona. Adesso abito con lui da quasi 5 anni a Verona, gli sto dietro in tutto. Non lo mollate mai sto ragazzo e lo seguite? No, no, non lo mollo mai a parte nelle gare, nelle gare vado solo. Il sorriso finale per gli atleti della nazionale in attesa degli europei. Io voglio intanto ringraziarvi perché insomma avete anche voi contribuito a questo, è stato un gruppo fantastico, una delle migliori nazionali. Quindi vi mando un saluto e ci vediamo agli europei ovviamente.